Dio Merda Non lo so, prendiammi qualcosa che ti sia dicente No, non lo so, ti spacco la pasta Ti do i soldi intanto No, devo comprare la licenza Potete usare anche senza l'IoC Che è la cosa bella Che cosa? E' il rog E' figliare un altro per i due soldi Aspetti Mostratemi la carta di identità Perché sennò non Ti oro Non sei brutto guarda Non ha funzionato Sul, vai Vai a posto Eeeh Quanti devo dare quindi per questo log? Eeeh A parte che ho due caricatori Non dite Viene un altro va 3 è il numero perfetto per morire Basta Ok ce li ho Prendi anche il termine Eh dagli il rog a Roman e tu te lo ripiti Te lo ripiti No, hanno rimesso il relit Sii Vuoi andare a farlo? No, ci abbiamo passato un'ora l'ultima volta Dio africano per Della carne secca Ti ha avuto sfiga Che ragione Ecco aspetta che Giordano ha fatto l'idiota No, non ce l'ho Me ne basta uno, grazie Una pregna Vadooo Non mi ricordavo che si mirava così da cazzo su arma La vedo solo io un pick up la Che svolazza Si Va bene Comunque erano due persone Più che nei bandigli E' stato nella setta Nella setta Nella setta Nella setta era bellissima Che era molto diversa Però Sicuramente mi diverto più Così adesso Eh Divertentarsi alla setta Però dopo un po' La lunga diventa monotono Perché sempre prende E' che diventa monosono Diventa monotono quando Vai e alla fine trovi solo Fanno RP di merda Uh Questa non loca Molto bene Molto bene signori Ex vendita diamanti Beh, quanti diamanti abbiamo a vendere Io manco uno Signori Prepariamoci alla guerra Sta arrivando due veicoli o no? Prepariamoci Io faccio Io faccio da Da vittima Da bait Salve Salve Mai in alto Perchè? 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 Signori Pessima decisione Grande roma Grande roma Seriamente? Attimo Un grande inizio Mi sento moralo ma hanno ingaggiato dal cazzo hanno ingaggiato no c'è uno ancora vivo in teoria ma che ingaggio era? non ce l'hanno dato neanche... vabbè quanti ne hai fatti fuori roman? uno uno passa attraverso il vetro il colpo no? c'è uno davanti al furgone? sì sì ce n'è uno e basta in teoria davanti al furgone sei tu? eh no invece erano due sì ma perché scrivi l'azione finita inside? il medico non può leggere in ogni caso zitto Giordano basta rosicare per l'ingaggio abbiamo capito tutti che è una merda no assolutamente no adesso ne parliamo verrà inutile che... cazzo fai... eh ho capito ma passi per quello rosicone cazzo oggi mi hanno annullato l'azione con la scu mi hanno annullato eh non è che è rosico però vuoi dire quello che è giusto è giusto scusami eh è una fatta azione che è anche con un civile dentro la stanza del TS ma non si può fare eh no ah ridaglie con stazione finita non lo legge lui madonna di dio guardi vede vede qua amico mio che la gente la gente è semplice quelli ci sono quelli che ci arrivano e quelli che non ci arrivano questo signore qui ha deciso che la propria vita valeva di più di 2000 dollari eh 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 e ha fatto la scelta migliore prego continui pure il suo lavoro la sua giornata qualsiasi cosa stesse facendo grazie e ricordi la vita non va mai data per scontata ma va che è già il sasso è quello di prima è quello di prima no come da buttare la macchina quanto è contato che esplode no neanche tanto vedi adesso sale boom allora in questa macchina si spara ma perché lui ci siete giusto io no guarda guarda come è stato Roman ma perché pervertito guarda come con le braccia incrociate mettiti bene che vuol dire dai un po' lì con te stesso oh ma è scomodo sul culo più no no mettiti lì perché vuoi aprire il portellone per sparare capito ma io non ho mai la pistola che cosa sparo le mani avrai la pistola breve non ti preoccupare adesso dobbiamo trovarci un punto e ci ritanno al loot cosa stai facendo lì buggato ma penso ci sia anche il civile ecco lì oh eh e vedi che sono in più dentro sono in quattro puttana troia buona tera buona tera chi ha aperto la macchina lasciate la macchina anche questa io sono qua non c'entra niente ci servono le nostre bellissime armi buona tera buona tera buona tera buona tera ragazzi burona tera privata buona tera qui non c'è che cosa ma what ma what dove siamo ma che noo avevo della carne di coniglio cotta prima ah wow incredibile siete forniti di oooooooooooo che cazzo? ma what? dove siamo? ma che... che è successo? ma che cazzo? ma che è successo? ma che è successo ragazzi? aspettate no, ha esploso noooo che cazzo? che cazzo? Grazie.